Gio Pino, ma è già possibile scaricare il tuo logo cd? Potevo aspettare tipo il 25-26 che qualche buon cittadino lo pubblichi in rete, una faccia di Irene. Irene, cosa ti devo dire? Se lo comprassi forse sarebbe meglio, che dici? Invece di comprare una tabla di quello di Pasqua Rosso e di Riappone. Gio Pino, ho ascoltato il nuovo cd di Bitfilda che si chiama Grande Nazione. Lo sentite anch'io, una grande cagata Gio Pino. Vai Jack. Allora andiamo avanti.